ciao a tutti da rita e bentrovati sul mio canale youtube rita chef channel oggi prepariamo insieme una crostata deliziosa con ricotta e cioccolato un connubio davvero perfetto è golosa profumata e bella da portare in tavola prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video ed ora mettiamoci all'opera iniziamo con la preparazione della farcia della nostra crostata abbiamo bisogno di ricotta scegliete voi se preferite ricotta di mucca o di pecora nel mio caso è una ricotta di mucca utilizzeremo poi la scorza di un'arancia e la scorza di un'arancia deve essere assolutamente edibile zucchero semolato gocce di cioccolato e aroma di rum aggiungo subito lo zucchero alla ricotta l'aroma di rum la scorza di un'arancia lavoriamo con una spatola e per ultimo aggiungiamo le gocce di cioccolato eccola qui la nostra farcia profumatissima è pronta la mettiamo in frigo momentaneamente e procediamo alla preparazione della pasta frolla ed ora è il momento di preparare la pasta frolla in una ciotola oggi ha messo due uova aggiungo lo zucchero aggiungo olio di girasole e lavora ancora adesso misceliamo le polveri ho già setacciato la farina aggiungo alla farina lievito vanigliato e vaniglia in polvere e adesso aggiungo le polveri al composto di uova zucchero e olio miscelo tutto inizialmente con la spatola presevo a mano eccola meno di un minuto la frolla è pronta morbida ed elastica la lascio riposare 5 minuti e procediamo a stendere la base della crostata stendiamo sul foglio la metà dell'impasto a questo punto possiamo mettere la base all'interno di uno stampo io sto utilizzando uno stampo da 24 cm di diametro ho messo sul fondo della carta da forno e i bordi li ho imburrati e leggermente infarinati ora buchiamo la base con i rebidi una forchetta e poi mettiamo all'interno la farcia di ricotta ok la base è pronta adesso procediamo a stendere il resto della pasta frolla e la tagliamo a strisce grazie a tutti 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 con gli avanzi di frolla possiamo realizzare queste piccolissime decorazioni da mettere sulla crostata ora dobbiamo semplicemente spennellare la pasta frolla con un pochino di latte a temperatura ambiente e ora possiamo cuocere la crostata in forno ventilato per 40-45 minuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti